E' un'altra battaglia importante a difesa della città rispetto alla quale non ci tireremo indietro e continueremo a combattere con tutte le nostre forze. I mezzi pesanti non possono e non devono passare alla città di Reggio Calabria. Il Comune ha deciso per il muro contro muro nei confronti della Commissione Via del Ministero dell'Ambiente. Pronte le osservazioni che saranno spedite a Roma per bloccare il progetto di trasferimento del traffico dei mezzi pesanti da Villa San Giovanni a Reggio. In particolare questo progetto di far passare i mezzi pesanti dalla città di Reggio Calabria e in particolare dallo svincolo nord della 3 Reggio Porto per intenderci è contrario allo strumento principe che regola la mobilità nella nostra città che è il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato proprio nel 2017 che prevede che su quell'area che oggi, secondo questo progetto scellerato, dovrebbe essere quella di attracco per poi far passare i mezzi pesanti in Sicilia si costruisca un centro di distribuzione urbana. Ma non solo. Nelle osservazioni il Comune farà riferimento anche alla ZES e comunicherà comunque il divieto di transito sulle aree comunali per i mezzi pesanti. Noi come Comune negheremo sicuramente la viabilità ai mezzi pesanti appena inizia il nostro tratto di competenza su quella zona. Peraltro ci sono dei provvedimenti intervenuti, basti pensare a quelli recenti, adottati dal Ministero e dalla Regione con riferimento alla ZES, questo strumento così importante che riguarderà anche l'area del porto di Reggio Calabria. Riccardo Tripepi per la CNews24